Proprio nei giorni in cui il tema della criminalità organizzata e delle infiltrazioni mafiose nell'Aretino torna sulle prime pagine dei giornali, Prefettura e Camera di Commercio di Arezzo siglano un protocollo d'intesa per la sicurezza e la legalità, che difende al sistema imprenditoriale Aretino, reso vulnerabile dalla crisi economica, da possibili infiltrazioni criminali. Di che cosa si tratta? La Camera di Commercio mette a disposizione della Prefettura il proprio patrimonio informativo imperniato sul registro delle imprese. Una banca dati in grado di fornire informazioni riguardanti 6 milioni di imprese su tutto il territorio nazionale. Questo ovviamente è un mezzo potentissimo che consentirà ancora di più di evitare che nell'ambito di appalti pubblici, forniture di servizi, forniture di lavoro e quant'altro imprese macchiate da infiltrazioni criminali, organizzate o meno, possano mescolarsi, diciamo così, con gli enti pubblici. Noi riteniamo che la legalità sia assolutamente un pilastro fondamentale e imprescindibile per un sano sviluppo economico e quindi è con piacere che questa mattina abbiamo siglato questo protocollo d'intesa. Inoltre, la Camera di Commercio a Retina mette a disposizione della Prefettura altri due applicativi informatici. Una banca dati che si chiama Revisual che consente di avere una mappatura a livello nazionale delle partecipazioni societari, ovviamente in imprese private, detenute da imprenditori operanti in provincia di Arezzo. Il secondo strumento si chiama Rimap, un'altra banca dati che permette di selezionare elenchi di imprese su criteri di territorialità. Si disegna su questo applicativo la mappa dell'area che vogliamo individuare e il sistema ci dà le imprese con tutte le caratteristiche di queste imprese che operano all'interno di quel perimetro.